Musica Cari telespettatori buonasera e bentornati in diretta a Primo Cittadino Oggi è di nuovo con noi Sindaco di Fano Massimo Seri, benvenuto Sindaco Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori Vi ricordo come sempre che potete intervenire telefonando lo 0721 861433 oppure inviando un messaggio, meglio se su WhatsApp, al 338 4968 250 Sindaco nel corso del telegiornale delle 20 e 30 poi faremo vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri nel centro storico perché è stata inaugurata a Piazza Marcolini da parcheggio a luogo di socializzazione Direi proprio di sì, è una bella soddisfazione perché abbiamo riportato al suo giusto splendore uno spazio, una piazzetta molto bella che ha rappresentato anche in passato qualcosa di importante è che è la piazzetta di un palazzo storico significativo come Palazzo Marcolini e quindi prima era una situazione indecorosa diciamolo onestamente e non è mai stato un parcheggio, era uno spazio quando c'è degrado ovviamente ci si parcheggia all'interno proprio ieri vedevo un quadro di Tom Storr che riproduceva la piazzetta ed effettivamente era tutt'altra cosa insomma era un po' come oggi devo dire che c'è stata tanta gente e questa è la dimostrazione che ci tenevano e poi ricordo anche durante questi anni tante volte veniva richiamato lo stato di degrado di quello spazio era uno dei miei obiettivi che mi ero dato ma quello che voglio sottolineare è che questo sta in un contesto una visione di una città che stiamo trasformando la stiamo rendendo sempre più bella e qui è sotto gli occhi di tutti effettivamente è oggettivamente un bel lavoro, una bella riqualificazione adesso in queste immagini non vediamo l'erbetta perché non è cresciuta ma sono convinto che verrà tanta gente io l'ho chiamata un po' la momma trefanese nel senso la finalità poi deve essere un luogo di socializzazione un luogo dedicato anche a attività culturali che in qualche modo oggi Palazzo Marcolini è dedicato ad ospitare delle classi di alcune scuole però in previsione verrà restituito alla proprietà che è l'amministrazione comunale io penso che Palazzo Marcolini dovrà diventare un contenitore culturale che dialogherà anche con la piazza però devo dire veramente è stato un bel lavoro un grazie anche ai tecnici, ai progettisti perché le cose belle poi hanno anche persone che si sono impegnate devo anche riconoscere un grande lavoro che ha fatto l'assessore Brunori perché è sempre stata dietro ai lavori come sapete tutti i cantieri che partono poi incontrano inevitabilmente delle problematiche anche qua sono emersi dei reperti archeologici qui in parte medievale quindi anche lì hanno tardato un po' la conclusione della riqualificazione però oggi siamo soddisfatti e la gente che ha partecipato ha manifestato soddisfazione è un grazie anche ai vari artisti che ieri erano presenti proprio per dare un senso anche a quella che deve essere in qualche modo la finalità della piazza che si unisce a tante altre riqualificazioni già avvenute e che sono in corso ecco abbiamo visto anche poco fa le immagini della fontana quello belisco che era stato realizzato infatti quella fontana era quella in piazza Miani esatto l'abbiamo riportata lì perché erano proprio i ragazzi dell'istituto Apolloni che l'avevano realizzata e che l'hanno restaurata ecco anche qui un sentito grazie ai ragazzi che hanno fatto questo lavoro importante poche centinaia di metri più in là c'è piazza Andrea Costa dove anche lì sono emersi dei reperti adesso un altro sabato per poterli visitare tramite le visite guidate che insomma anche sabato scorso hanno riscosso un grandissimo successo quindi i lavori un attimo rallentati però poi si proseguirà a step sì anche piazza Andrea Costa diventerà veramente una bella piazza immaginate cos'era Fano dieci anni fa e cosa è oggi e cosa sarà poi nei prossimi anni passando per il Pincio per via Garibaldi per piazza Marcolini piazza Andrea Costa poi proseguendo verso il mare piazza Rosselli piazza Andrea Costa ovviamente lì lo sapevamo che nel momento in cui si andava a fare dei lavori sarebbero emersi dei tesori perché le nostre queste scoperte archeologiche in parte si conoscevano in parte anche nuove sono un'occasione anche importante di valorizzazione allo stesso tempo sono un problema nella tempistica dei lavori che inevitabilmente richiederanno ulteriori scavi ulteriori verifiche e inevitabilmente rallentamenti dei lavori ma d'altronde in una città con oltre 2000 anni di storia siamo proprio nel cuore della Fano storica della Fano romana per cui è prevedibile che accada questo ma qualcuno dice ma che li fate a fare? se dovessimo adottare questo criterio non faremo più nulla della nostra città storica andiamo avanti con i messaggi sindaco intanto vogliamo far rivedere alcune foto che ci sono arrivate nel pomeriggio e una nostra telespettatrice che commenta questi spazi potevano essere utilizzati diversamente senza piastrellarli per posti auto in più siamo in Viale Battissi anche qui proseguono i lavori però che cosa rispondiamo alla telespettatrice? Beh, anche lì c'era necessità di dare decoro di mettere in sicurezza anche coloro che lo attraversano a piedi pedoni non dimentichiamo che quello è un collegamento tra il centro storico e il mare non potevamo continuare con un parcheggio in qualche modo disordinato proprio dei pressi anche dei muretti delle recinzioni delle abitazioni quindi si è dato una riqualificazione una riqualificazione importante bella che quando sarà ultimata e qui siamo avanti con i lavori immagino insomma la prima parte è conclusa adesso si lavorerà nella parte opposta quando il lavoro sarà finito la gente lo apprezzerà i marciapiedi ovviamente se si fa una riqualificazione va fatta bella e penso questa sia degna di una città come la nostra sia degna di un collegamento come è Viale Battisti tra il centro storico e il mare guardando avanti invece per i waterfront i lavori stanno andando adesso celermente quindi faremo tutto il lavoro della piazzetta e dell'ex anfiteatro che come vedete diventa un palcoscenico quindi rimarrà nella sua funzione anzi verrà rinnovata e migliorata mentre la parte antecedente probabilmente la faremo slittare qui dove vedete la Iguola con la ripresa del dopo estate a settembre soprattutto la parte proprio sulla Battigia quegli lavori verranno ultimati abbiamo parlato con la ditta adesso sta procedendo celermente fra l'altro sono ditte che finisco serie che hanno già fatto altri lavori con noi devo dire hanno sempre rispettato le tempistiche e stanno mettendo tutta la passione perché poi anche per loro è una soddisfazione quando si fanno delle belle cose perché questi interventi qui lasciano un segno e danno valore sia a chi le realizza ma danno valore anche alla città e le immagini lo dimostrano i rendering che anche qui si è scherzato molte volte la città dei rendering ma oggi ora i rendering stanno prendendo tutti forma ma il taglio del nastro lo farà lei? io penso di sì penso di sì anche perché non dobbiamo dimenticare che lì ci sono attività estive quindi per questo abbiamo ritenuto la parte antecedente di posticiparla proprio per non creare disagio e quindi penso mi auguro insomma lo dico con una certa tranquillità però le certezze ovviamente non ci sono non ci sono mai ma le problematiche sono state tutte superate facciamo qualche passo indietro un telespettatore chiede quando farete la prova di carico sul ponte di Viale Battisti che è il quanto deteriorato? sì quella la verifica su quel ponte è stata fatta qualche anno fa io ero già sindaco quindi penso di essere abbastanza tranquillo comunque visto su queste cose bisogna essere sempre ipersicuri grazie anche a questo telespettatore farò un'ulteriore verifica però una verifica era già stata fatta sulla staticità tempo addietro è chiaro che quello è un ponte che è messo sotto stress molte volte non tanto dal traffico costante ma anche dai trasporti eccezionali che hanno un carico significativo e per questo devono avere un monitoraggio costante e più frequente di altri punti dalla Sassonia al Lido via Filzi sindaco quando si potrà fare qualche cosa anche a livello di illuminazione asfalto e marciapiedi le chiedono? intanto via Filzi l'avevo già asfaltata io da sindaco se non ricordo male con tutta una serie di vie della zona a Lido a cui se ne sono aggiunte altre anche recentemente adesso sull'illuminazione abbiamo avviato un processo di sostituzione a tutti i punti luci della nostra città sono in corso ovviamente un po' alla volta ma l'incarico che abbiamo dato è per tutti i punti luci di tutta la città in parte l'avevamo già fatta ma quindi verranno eseguiti con luci LED che migliorano anche la luminosità andiamo invece ad Arsenal al sottopasso anche lì cantiere aperto a che punto sono i lavori sì lì stiamo procedendo aspettiamo per fare l'ulteriore passo anche su sollecitazioni di alcuni cittadini abbiamo dovuto chiedere anche se dal nostro punto di vista non era necessario immagino in tante altre città non le abbiano fatte ma noi per essere in piena regola un'autorizzazione scontata alla sovrintendenza che attendiamo appena ci danno l'ok riprenderemo il lavoro per realizzarlo completamente anche perché l'accordo con RFI era la consegna del sottopasso entro il 31 12 2024 quindi auspichiamo che la sovrintendenza non ci faccia attendere ulteriore tempo ci scrive Cinzia di Ponte Sasso vorrei informazioni riguardo la ciclovia adriatica sì ciclovia adriatica il primo tratto lì a Ponte Sasso l'abbiamo realizzato dobbiamo procedere con gli altri ovviamente noi siamo andati avanti con le progettazioni lì attendiamo l'uscita dei bandi per finanziamenti di piste ciclabili che sono destinate proprio alla ciclovia dell'Adriatico ovviamente non per tutto il tratto noi saremo pronti per candidarci la regione ha già avuto le risorse per destinare a queste dovranno uscire i bandi io penso che non attenderanno molto ovviamente non sarò io perché io concludo il mio mandato a giugno quindi ovviamente riguarderà chi seguirà però chi seguirà e chi sarà il nuovo sindaco avrà gran parte del lavoro già fatto pronto Sindaco ci spieghi chiaramente la situazione al parco dell'aeroporto perché si parlava prima di una dita in adempiente poi insomma confermiamo purtroppo le ditte non ce le scegliamo noi facciamo delle gare rispettando le regole vincono delle ditte le quali iniziano dei lavori e alcune volte capita poi nel nostro caso dove i cantieri sono veramente tanti devo dire è andata molto bene perché potremmo averne se guardiamo la media nazionale molto più problemi anche con altri cantieri in questo caso problemi ci sono stati la ditta adesso stiamo riscendendo il contratto quindi stralceremo la parte ancora non realizzata dove si tratta in gran parte di acquisto di beni e che faremo direttamente noi con le risorse che stralceremo dalla ditta le tempistiche sono quelle di carattere giuridico perché gli uffici stanno lavorando per non avere poi contenziosi ulteriori in tal senso per cui manteniamo quello che abbiamo detto poi le tempistiche inevitabilmente nelle procedure richiedono sempre tempo le chiedono anche quando interverrete nella passeggiata dell'Isippo allora la passeggiata dell'Isippo è tutto pronto noi siamo pronti da mesi anche su questo lo dico perché poi anche per me è una scocciatura mi arrabbio anche come si arrabbiano i cittadini perché quando le cose dipendono esclusivamente da noi è un senso siamo noi che rispondiamo e le tempistiche potremo tardare di un mese o due ma le rispettiamo quando dipendiamo da altri purtroppo non è così noi abbiamo avuto dei ritardi per avere delle autorizzazioni ministeriali che gridano vendetta con le tempistiche che ci sono state perché lì incidiamo in alcuni tratti nel demanio marittimo oggi sono arrivati tutte quante partirà adesso la bonifica bellica essendo la nostra una zona sensibile ci siamo già passati quindi fatta la bonifica bellica i lavori li faremo partire a settembre potremo partire subito ma siamo dopo entriamo in piena stagione estiva non vogliamo creare disagi e quindi i lavori della passeggiata dell'Isipo partiranno a settembre oggi lo dico a pieno titolo perché le autorizzazioni le abbiamo tutte quindi potremo partire già dal mese di giugno ma il senso di responsabilità ci dice insomma di farli partire a settembre ma vedranno i lavori della bonifica bellica a brevissimo le chiedono anche di sollecitare Wider per la fine dei lavori abbiamo altri messaggi diversi messaggi che ci arrivano da Ponte Sasso ma ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a tra poco Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri vado subito a Ponte Sasso le dicono buonasera signor sindaco dal suo primo mandato che ho richiesto di mettere in sicurezza un tratto della statale adriatica Ponte Sasso e al termine del suo secondo però ancora non è stato fatto nulla non so se intende con illuminazione telecamere sicuramente sicuramente ho già capito chi ha chiamato intende mettere in sicurezza il lato della strada sono dei fossi che vanno tombati effettivamente ha ragione perché c'è un impegno però d'altronde i cantieri sono tantissimi le persone che ci lavorano sono le stesse per tutti quindi purtroppo ci sono delle priorità e delle scadenze che dobbiamo rispettare quindi inevitabilmente queste poi prendono la priorità rispetto ad altre adesso vediamo in fine corsa cosa si riesce a fare però vorrei ricordare che a Ponte Sasso gli interventi sono stati tanti dalle manutenzioni delle strade che abbiamo asfaltate penso tutte il sottopasso visto che le chiedono anche questo arriva anche quello il muretto rispetto al passato poi interventi al centro sociale un altro ripartirà importante a breve il sottopasso ci sono i lavori in corso verranno ultimati per fine aprile ok bene quindi una bella notizia volevo adesso farle rispondere ad una richiesta che è arrivata dalla Lega Lega che Lega Fano è intervenuta sullo smaltimento dell'erba sintetica inerente al campo del Vallato 21 associazioni del territorio hanno partecipato al bando dicendo appunto di essere disponibili per questa assegnazione assegnazione per loro anche importante però insomma sono 5 mesi che aspettano e non hanno avuto risposte che cosa è successo sì tanto vorrei dire che abbiamo fatto una scelta bella lì di quello il materiale che andava riciclato e non veniva più utilizzato da noi per cui per noi non aveva più un valore ma per alcune associazioni potevano essere utili da essere per sfruttarli insomma per le loro attività per alcuni interventi quindi abbiamo pensato di rimetterle a disposizione ahimè purtroppo siamo un paese strano vedete i rotoli alcuni sono spariti ci sono ancora per carità ma non sono più tutti un paio di rotoli quindi i gnoti hanno rubato esatto e quindi adesso stiamo dialogando con le autorità competenti gli uffici sporgerete denuncia sì 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 di conseguenza l'assegnazione deve essere bloccata ancora un po' no no andiamo avanti purtroppo mancandone alcuni non ci sono più per tutti quindi quando accadono queste cose c'è un un non rispetto verso la cosa pubblica e non so di qualcuno le avrà presi per portarsene a casa non quindi questa è la situazione quindi adesso faremo la denuncia ci sono delle telecamere in zona adesso non riferisco bene beh lì no onestamente no adesso quella non è una zona poi d'altronde non potevamo tenerli dentro non c'era uno spazio ma adesso speravamo nel buon senso delle persone quindi qualcuno si è fermato magari di notte e ha portato via un paio di rotoli senta invece visto che ci siamo fratelli d'Italia nei giorni scorsi era intervenuta solo Zingarini sulla pista perché ci sono i lavori che interessano in realtà la tribuna e quindi dei disagi provocati all'associazione di atletica sì è vero quando si fanno i lavori i disagi si sono però è anche vero che quando sono finiti avremo un impianto importante riqualificato quindi un po' di pazienza ci vuole non ho mai visto dei cantieri dove non hanno creato disagio poi in alcuni casi va mantenuta anche la sicurezza per cui è vero quindi un discorso complessivo anche se si interveniva sulla tribuna lei diceva bene non avere atleti sotto sono gli addetti alla sicurezza poi succede qualcosa tutti a gridare perché non si è stati attenti quindi ci scusiamo per il disagio però voglio ricordare risistemazione della tribuna manto nuovo della pista di atletica e il tunnel che consentirà di fare attività in inverno indoor e quindi per Fano è una bella struttura abbiamo avuto la capacità di prendere delle risorse importanti per questo impianto altra domanda per lei il nuovo Palace le chiedono al pari di interquartieri il fallimento più grande sulle infrastrutture cosa risponde? cosa rispondo? che sul Palace ci stiamo lavorando non è che sono interventi piccoli sono interventi milionari dove insomma i migliori sono l'amministrazione da solano sono tanti e quindi c'è un lavoro in corso ci sono contatti in corso chiedono tempo però io spero prima di lasciare di poter dire qualcosa di importante anche per la caserma dei vigili del fuoco? la caserma del fuoco sì anche questo guarda alcune volte mi cadono le braccia purtroppo però anche su questo ci siamo ormai penso sicuramente partirà la gara d'appalto per i lavori entro fine il mio mandato io smetto a giugno quindi significa che siamo veramente agli sgoccioli visto che ci siamo ha deciso se candidarsi o meno alle europee mi piacerebbe però devo capire il contesto le situazioni sono convinto che per come sono fatto per l'esperienza che ho maturato in questi anni sia come sindaco ma sia anche con i miei incarichi di carattere internazionale che per il territorio potrei fare un buon lavoro e potrei portare sia risorse e risultati però come tutte le cose ci devono essere le condizioni quindi se ci sono bene se no andrò a votare altri nelle prossime settimane sindaco anzi nei prossimi mesi vi aspettano due eventi molto importanti parte Circonomia che è appunto dedicata a Fano 50 per 50 capitali al quadrato per Pesaro capitale italiana della cultura e poi il Giro d'Italia che abbiamo presentato sabato pomeriggio a teatro sicuramente è una bella vetrina per la nostra città tra l'altro questa sera nel nostro telegiornale avremo Alighiero Micioli che è responsabile dell'organizzazione della tappa nostro ospite che sensazioni ha? Allora intanto per Circo Economia partirà la settimana prossima sono appuntamenti una tre giornate importante di ospiti di discussioni di riflessioni ed è conferma che la nostra città è una città in forte fermento in questi anni cosa che in passato onestamente va detto non c'erano tante iniziative tanta gente e c'è stato anche un apprezzamento che arriva da fuori città e allora quando questi arrivano da fuori città vuol dire che abbiamo fatto le cose importanti poi c'è quest'altro evento straordinario di rateri sportivo che ospita la dodicesima tappa del Giro d'Italia il 16 maggio anche questa è una vetrina importantissima tantissimi paesi collegati e quindi è una promozione straordinaria e devo dire qui grazie anche a Lighero Micioli che è responsabile dell'organizzazione ma abbiamo ottenuto un risultato perché non sarà un semplice arrivo ma nell'ultimo tratto del percorso quindi per una ventina di minuti tutta la carovana del Giro girerà in largo e lungo e anche in altezza perché passerà per la Patuccia Montegiove scenderà a valle venendo da San Costanzo tutto il lungomare per poi arrivare in viale Gramsci nel tratto tra la caserma e l'arco d'Augusto con l'arrivo ma quelli sono minuti preziosi perché in quei frangenti oltre a seguire la corsa ci saranno immagini dall'alto si parlerà di Fano delle sue bellezze delle sue attività e quindi se pensate una promozione di questo tipo quante risorse richiederebbero noi siamo riusciti ad inserirla in questo contesto abbiamo fatto una presentazione molto partecipata e gradita e questo è una testimonianza di quanto è forte e qual è la forza del giro d'Italia anche per le ricadute economiche esatto quelli sono investimenti che hanno ricadute significative e poi voglio ricordare che per questo abbiamo avuto finanziamenti importanti della regione che ringrazio perché se non ci fosse stata la regione noi non avremmo organizzato da soli privati che ci sono vicini e quindi con un minimo sforzo otteniamo un grande risultato sia in termini di obiettivi che si perseguiranno ma anche di soddisfazione per i tanti cittadini amanti della bicicletta ma anche coloro che non amano la bicicletta però vengono attratti dal fascino del giro d'Italia che con l'Italia ha un forte legame storico quante narrazioni hanno accompagnato anno dopo anno i giri d'Italia quest'anno è la quarta volta che a Fano c'è un arrivo lo abbiamo ricordato i giorni scorsi nel 62 63 la prima volta 62 83 le prime due poi 2012 e nel 2024 è bello poi vedere anche le tante realtà cittadine coinvolte sì devo dire c'è stata una grande partecipazione non solo ciclistiche ma anche altre a conferma di quanto dicevo che ha una capacità di coinvolgere trasmettere emozioni d'altronde ha una sua magia oltre all'evento sportivo trasmette questa magia dai più piccoli io ricordo quando andavo a Dalle Elementari quando passava il giro anche se non arrivava ma era solo di transito non si andava a scuola si aspettava le ore quell'attimo che era poi in realtà veramente un passaggio ma c'erano tutti questi caroselli questa atmosfera straordinaria poi si correva a casa a vedere il proseguo della tappa in televisione allora non vediamo l'ora di vedere questo giro d'Italia la dodicesima tappa appunto del giro d'Italia quell'arrivo a Fano sindaco io colgo l'occasione per ringraziarla per questi dieci anni per tutte le volte che insomma è stato disponibile a venire nei nostri studi per questo programma che nel mese di marzo per questa stagione terminerà perché poi daremo spazio alle amministrative quindi grazie voglio esprimere un ringraziamento anch'io perché devo dire Fano TV è stato uno strumento straordinario in questi anni in modo particolare nelle emergenze se non avessimo avuto Fano TV sicuramente avremmo avuto tanti problemi più grandi perché noi abbiamo una grande organizzazione di grande efficacia efficienza ma Fano TV è stato uno strumento straordinario di comunicazione per avvertire e qui lo dico anche con soddisfazione perché quando c'è un'emergenza i giorni dopo sono pieni di polemiche e lo vediamo lo leggiamo in questi dieci anni a Fano dopo ogni emergenza e ne abbiamo avute tante non c'è mai stata una polemica questo mi piace sottolinearlo e due sono gli elementi un esercito di persone a cominciare dalla protezione civile forze dell'ordine tutti coloro che hanno delle responsabilità all'interno dell'amministrazione comunale stessa hanno tutti svolto un grande lavoro ma mi permetto anche di dire che come amministrazione con questo sindaco perché io mi sono preoccupato da subito eletto ricordo la prima assemblea del Lanci che è il momento in cui noi approfondiamo con i colleghi il primo taglio a cui ho partecipato era proprio sulle emergenze alla luce anche delle cose che si erano verificate e da lì è nata una nuova organizzazione un nuovo percorso e oggi raccogliamo dei frutti significativi poi è stata anche un'occasione a cominciare dal primo cittadino di confronto con i cittadini per dare risposte e anche di risoluzione dei problemi perché qualche mondo la cravatta l'abbiamo sciolto esatto perché poi alcune volte anche il giudizio il suggerimento sono importanti un sindaco conosce molto bene una città la sua città ma non tutti i nostri occhi le nostre attenzioni non possono arrivare in ogni centimetro quadrato della città e quindi questo è stato uno strumento straordinario per cui lo faccio anche con una certa emozione questa è l'ultima puntata da primo cittadino in veste di sindaco quindi anche un saluto e un ringraziamento a voi come dicevo ma anche a tutti i cittadini che pur nelle critiche che ci stanno perché giustamente bisogna sempre guardare le cose che non vanno gli errori si commettono la perfezione quando uno è perfetto io mi preoccupo però ho sentito anche un calore umano e un'attenzione e un rispetto che mi ha fatto piacere mi ha anche incoraggiato poi concludiamo questo lo voglio sottolineare nei momenti difficili io ho sempre sentito i cittadini vicini e guardate nel momento penso anche il periodo del covid tante volte ricevevo dei messaggi di incoraggiamento siamo vicini grazie per quello che sta facendo poi ci sono anche quelli negativi per carità quelli non mancano mai ma quelli di solito sono i leoni da tastiera molte volte che poi si nascondono quindi un grazie anche a tutti i cittadini mi sento di di rivolgerlo perché li ho sentiti veramente vicini quindi mi scuso per le cose che non ho fatto per gli errori che ho commesso ma penso di aver lasciato tante cose e se chiudiamo gli occhi e pensiamo come era Fano dieci anni fa e come oggi beh possiamo dire che insomma abbiamo fatto un bel passo in avanti grazie sindaco grazie di nuovo per le sue parole per essere stato con noi un ringraziamento anche alla regia di Riccardo Sora e all'aiuto prezioso di Cristiana Guerra noi ci rivediamo dopo le 20 e 30 per il telegiornale grazie Massimo Seri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti